Quando si incrociano la squadra che ha iniziato in anticipo la preparazione, quella che è partita per ultima, non può che finire con la vittoria dalla prima. Però se la sconfitta arriva di misura e per giunta sul rigore, non c'è da farne un dramma. Il Bitonto cede alla Fidelissandria per 0-1, ma sfodera una prestazione tutta a cuore e fierezza sul prato mestamente spelacchiato del Città degli Ulivi. Mister Nicola Ragno, con tre big acciaccati in panca, Colella, Taurino e Genchi, propone il muro Sirri dinanzi al porterino volante Figliola. Si affida alla regia ruvide ed equidistante di Capece, Pepe cuce linea mediana e attacco, dove l'attanzio si sbatte gladiatorio e Piarulli punge instancabile. Il collega Gigi Panarelli sistema la sua corazzata con l'esterno destro basso Lacassia, Bitontino Doc, l'ex bolognese Manzo menano le danze nel mezzo, Prinari svar inafferrabile dietro Minacori e Tusiano. Dopo il minuto di silenzio, in ricordo commosso del giovane arbitro barbaramente ucciso a Lecce, schermaglia di studio, con i padroni di casa che azzanano gli avversari, dando fondo a tutte le energie possibili. Al decimo, corner di Pepe e tuffo di Anatrella ad allontanare. Al minuto 23, dialogo vertiginoso fra Pepe e Lattanzio, esterno sinistro di Piarulli, largo. A tre dalla mezza, Slalomeggi, nebriante Prinari sulla sinistra. Cross radente e il Vespigno Zingaro in scivolata sfiora soltanto. Al trentacinquesimo l'episodio che spacca il match. Cross da destra del sette biancazzurro, Sirri miete Tusiano in area. Rigore. Dal dischetto, Prinari fredda Figliola spiazzandolo. Dopo l'intervallo, i leoncelli provano a ruggire, mentre gli andriesi quasi rinculano timorosi. Due giri di lancetta, omelette della difesa neroverde e botta dell'ex bolognese. Figliola si distende Felino sulla sinistra e respinge. Poco dopo il quarto d'ora, Tusiano, da posizione favorevole, calcio a maldestro a forare le nuvole. Al minuto 27, mancino esplosivo di Tusiano e traversa frantumata. L'orgoglio neroverde infiamma all'improvviso la gara. Al ventottesimo, punizione affilata dalla tre quarti di sinistra, rimbalzo ingannevole in area piccola e Anatrella alza in angolo. Sei minuti dopo, piazzato calibrato di Pepe e spaccata di Sirri, sfera che rotola beffardamente sul fondo. Ad un sospiro dal triplice fischio del signor Marchioni di Rieti, palla vagante in area. L'attanzio lavora il cuoio e mette dentro. L'estremo ospite blocca senza patene e serra in cassaforte i tre punti.